Il nostro progetto è un paio della cipera in Piazza del Cavalliere. La nostra stop in Piazza del Cavalliere è l'alzamento in Piazza del Cavalliere. Il nostro progetto è il momento in Piazza del Cavalliere. è a 10-3 10-3, 12-50 12-50 50 part, stai con il tavalliere allora, ecco ragazzi adesso ci avvicineremo il porto da Madonna, le piscine naturali oggi facciamo un piccolo stendere in programma, non so che chiamo non so che siamo a fine stagione non so che una bellissima sorta nel porto a Madonna, un piscine naturale ma anche una piaggia, alla piaggia dello Cavaniere ecco detto, una delle piagge più belle dell'architela un piccolo pescherino per oggi per voi, ecco la partenza dal Cavaniere sarà le ore 3, meno 10 3.10 punti a bordo per la in ordine in ordine ecco la prima l'arbe segona l'arbe arriva su la unica e l'arbe di Grazie a tutti Grazie a tutti